Il pastore di Maria e Giuseppe Il pastore di Maria e Giuseppe Ho la gioia di augurarvi che sia un Natale santo, che sia un Natale profondo. Vi invito ad andare alla scuola di Maria, la Vergine Madre. Fatevi il regalo a Natale di un tempo per voi, di un tempo di interiorità, un tempo in cui godere, contemplare l'immenso dono del Padre Celeste che invia a noi il Suo Figlio, ce lo invia così fragile, ha bisogno di tutto, ha bisogno di essere preso in mano, così come anche la nostra umanità, così fragile, ha bisogno di essere accolta, di essere amata. Buon Natale!